Grazie a tutti 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 Di bandiere ucraine se ne vede soltanto una piccola sventolata in piazza della signoria da una signora accanto a quella italiana, ma l'invasione russa e la difesa di Kiev sono al centro delle celebrazioni di questo 25 aprile di guerra, scrive Storni. A Firenze Lampi sfila accanto alle istituzioni cittadine uniti nei valori e nella libertà ma divisi sull'invio delle armi in Ucraina. E' proprio la cosa di cui vi stavo parlando precedentemente. L'individualismo diventa una forma di difesa, non tanto una forma di cultura. C'è l'individualismo come cultura dominante, ma c'è anche una condizione tale per cui diventa difficile tirar fuori un giovane e dire occupati di... Devo dire, devo dire, devo dire, io faccio un'esperienza particolare oltre a quella dell'istituto storico della resistenza, mi occupo di un'associazione di volontari in carcere. Devo dire che spesso e volentieri invece i giovani lì, i giovani nel volontariato, si esprimono, mentre non si esprimono in politica. Direi che il dovere della memoria è fondamentale in una cultura ormai completamente appiattita sul presente. E' fondamentale innanzitutto perché ne dobbiamo fare tesoro, ma anche come monito. L'Italia ha sempre avuto problemi con una memoria condivisa della propria storia nazionale e credo che uno dei problemi legati al 25 aprile, particolarmente negli ultimi decenni, sia quello che questa festa viene sempre declinata e poi strumentalizzata sulla polemica del momento. E vi ricordiamo che prima di tutto va in onda in diretta alle 7.30, da lunedì al venerdì, con repliche alle 11 e alle 14 dopo il Tg del giorno. Si può anche seguire i streaming sul nostro sito www.tvprato.it e sarà inoltre realizzato un podcast che verrà pubblicato su Spotify, dove sarà possibile ascoltare l'audio della puntata. E voltiamo pagina, celebrata anche a Prato, la ricorrenza della festa della liberazione. Il sindaco Matteo Biffoni ha ricordato il dramma dell'Ucraina, sottolineando l'importanza della resistenza. No alle armi, la diplomazia apra tavoli vere di trattative, ha affermato invece la presidente provinciale di Ampi, Angela Riviello. Vediamo. Non vi nego che questo è l'intervento più complicato che io faccio da quando sono sindaco al 25 aprile. È stato un 25 aprile segnato dal dramma del popolo ucraino martoriato dalla guerra. Davanti a tutto questo, ha affermato il sindaco, è difficile, faticoso, perfino doloroso prendere posizione su come giungere a una tregua dalla guerra o alla tanto voluta pace, perché c'è una ferita aperta per tutti noi che il 25 aprile abbiamo sempre celebrato i valori della pace e della democrazia. Il primo cittadino ha condannato senza sé e senza male l'invasione armata dell'Ucraina da parte della Russia. L'obiettivo primario è quello di far cessare il rumore dei bombardamenti, ha aggiunto Biffoni, sottolineando al contempo la necessità di sostenere la scelta del governo italiano di supportare la resistenza ucraina, ricordando che anche i valori della nostra Costituzione sono nati dalla resistenza anche armata. C'è un obiettivo primario da ristabilire, che è quello di far cessare il rumore dei cannoni, dei mitragliatrici, delle bombardamenti, di ottenere una tregua, di far ripartire le trattative, di mettere a sedere chi ha invaso l'oggetto principale, il soggetto principale a cui vanno imputate le colpe per la condizione in cui stiamo vivendo, perché il soggetto aggressore c'è, ed è netto ed è chiaro, con le parti in causa. Credo che se non continua una resistenza di un popolo sarà difficile andare a una tregua, sarà una resa, che è una cosa ben diversa a casa mia. Quando leggo di Buccia o quello che sta succedendo a Mariupol, beh è difficile, difficile per gente come noi non farsi tornare alla mente Sant'Anna di Stazzema o Marzabotto, è molto, molto difficile. La Presidente di Ampi Prato, Angela Riviello, ha invece incalzato la politica affinché trovi una soluzione diplomatica al conflitto. Dobbiamo mobilitarci per chiedere che la diplomazia internazionale dimostri la capacità di aprire tavoli vere di trattative. Vogliamo sentire la voce della politica. Dov'è l'Europa Unita? Quella che, come ci ricordava Mattarella, era nata dalla cooperazione nella libertà e nella pace. Non vorremmo continuare a sentire le ragioni delle armi o, peggio ancora, quelle economiche che ci girano intorno. Le celebrazioni sono iniziate al mattino con la messa di suffragio in Duomo preseduta dal vicario generale Monsignor Daniele Scaccini a seguire il corteo delle autorità cittadine fino a Piazza Santa Maria delle Carceri per la cerimonia ufficiale organizzata dalla Prefettura dove è stata deposta una corona di alloro al monumento ai caduti. Infine, in Piazza del Comune, gli interventi della Presidente di Ampi Riviello e del Sindaco Biffoni. E intanto è bufera sulla consigliera comunale della Lega di Poggio a Caiano, Elena Chiti, che in occasione della Festa della Liberazione ha augurato buon 25 aprile pubblicando sulla sua pagina Facebook una foto con bottiglie di vino sulle cui etichette compare varie volte l'immagine di Mussolini affiancata a quella di personaggi di sinistra come Che Guevara e Marx. La didascalia della foto riporta la frase in vino Veritas. La capogruppo di Siamo Poggio, centro-sinistra Paola Vettori, parla di post di pessimo gusto che qualifica questo partito e questa destra poggese, la quale continua a strizzare l'occhio al ventennio come se fosse normalità, dice Vettori, dimenticandosi che grazie alla resistenza, se oggi abbiamo consigli comunali dove possiamo dibattere le varie opinioni in totale libertà d'espressione. Pubblicare la foto di Mussolini è sempre un reato, apologia del fascismo. metterla oggi è avere disprezzo delle istituzioni, conclude Vettori. E siamo adesso allo sport con il calcio giovanile con la quindicesima edizione del torneo Jacopo Menchi. Ospiti d'eccezione sugli spalti del campo sportivo Faggi alla Pietà, nelle vesti di genitori, l'ex centrocampista della Juventus Roberto Marchisio e il noto presentatore Amadeus. Il servizio è di Massimiliano Masi. È stato l'Empoli a vincere la quindicesima edizione del trofeo Jacopo Menchi. La formazione azzurra ha superato in finale per 3-1 la Roma. Terzo posto per il Torino, che nella finalina di consolazione ha superato nel derby della Mole, sempre per 3-1 la Juventus. Ottima decima posizione per i padroni di casa della Pietà 2004. È stato un torneo bellissimo. Più che altro per l'esperienza abbiamo fatto vivere ai ragazzi affrontando tutte queste squadre molto forti. Per noi era molto importante affrontarsi con tutte queste squadre perché ci fa un po' capire quello che siamo e che dovremo diventare. Nel calcio purtroppo sono gli episodi che condannano un po' le sconfitte. Abbiamo giocato un grande primo tempo, su un campo purtroppo non bellissimo, dato la pioggia in questi giorni. Però io devo fare solamente complimenti ai ragazzi che comunque hanno disputato un torneo alla grande, si sono adattati subito al terreno. E complimenti all'Empoli che comunque hanno vinto la finale e anche loro hanno fatto un grande torneo. È stato un vero successo di pubblico e di organizzazione per la quindicesima edizione del trofeo Jacopo Menchi con le tribune del campo sportivo Faggi, sempre sold out, nonostante il maltempo. Dopo due anni di pandemia che non hanno fatto fare questo bellissimo torneo, siamo ripartiti, manifestazione veramente importante sia a livello di affluenza di pubblico ma anche a livello tecnico perché ci sono fra le migliori squadre della Serie A della categoria 2009. Presenze d'eccezione in tribuna con nelle vesti di genitori interessati l'ex centrocampista della Juventus, Roberto Marchisio, suo figlio gioca nella Juventus, e il presentatore Amadeus, suo figlio gioca nell'Inter. Si torna a giocare, noi torniamo a fare i genitori a bordo campo, finalmente dopo due anni, quindi è una gioia vederli giocare, che stiano insieme, si riaccende tutto e questo è importante. Hai il figlio che gioca nell'Inter, fa il portiere, ruolo brutto. Lui se l'è scelto, gli piace, il genitore del portiere è un genitore che io amo stare un po' in disparte, mi concentro, ma è un ruolo bello, affascinante, sono felice che lui fin da piccolo, fin dall'età di sei anni, si sia scelto questo ruolo, quindi va bene così, lo viviamo serenamente. Adesso è il momento delle previsioni meteo, come sempre a cura del Consorzio Lama. Buongiorno dal Consorzio Lama, la pressione sul Mediterraneo centrale è in aumento e questo garantisce condizioni di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, come possiamo vedere dalle immagini del satellite. Una perturbazione in transito sull'Europa centrale interessa comunque anche le regioni settentrionali, in particolare quelle nord-orientali, ma la tendenza poi per i prossimi giorni è per un miglioramento anche su queste zone. Passiamo subito a vedere in dettaglio la previsione sulla Toscana per oggi pomeriggio. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso al centro-sud, ancora qualche addensamento più consistente in Appennino, in particolare sulle zone di nord-ovest, venti generalmente deboli, prevalentemente occidentali o meridionali, temperature massime in aumento fino a 20 gradi nelle località di pianura, mari generalmente mossi ancora ai bacini settentrionali, poco mossi gli altri. La tendenza poi per la giornata di domani, mercoledì, ad insegna di un ulteriore miglioramento, avremo un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, qualche addensamento ci potrà ancora verificare, in particolare nel pomeriggio sulle zone interne, ma si tratterà di nuvolosità poco consistente. I venti saranno prevalentemente deboli, di direzione variabile, ma con prevalente componente meridionale. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte fino a 22-23 gradi nelle zone di pianura. Con questo dall'amma direi che è tutto. Bene, anche dalla nostra redazione per il momento è tutto, ma la programmazione di TV Prato prosegue. Tra poco la replica di prima di tutto, la rassegna stampa a cura di Giorgio Bernardini. Più tardi alle 17.30 vi ricordiamo, in diretta dalla Chiesa della Resurrezione, la recita del rosario e a seguire la celebrazione della Santa Messa. L'informazione di TV Prato torna invece alle 20.30 con il Tg della Sera e intanto tutti gli aggiornamenti li trovate come sempre sul nostro sito tvprato.it. Grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori.